Nella parte posteriore di questo taglio siamo andati a scavare, a togliere questa pesantezza, però rispettando l'equilibrio della morbidezza e della femminità di questa dogma. Abbiamo lavorato molto nell'interno mantenendo una linea leggermente più forte. In questa proposta abbiamo un collo vestito, estremo, disegnato e leggermente sfilato. Il taglio corto è espressione. Il taglio corto è espressione. Il taglio corto è espressione.